Dove? Ah qua! Mamma mia cazzo! L'ha persa, però va ti ha sporcato tutta la ruota dopo. Almeno non se ne è accorto, c'è dentro anche quell'altro, tutte e due. Perché glielo ho nascoste prima, non ne ho fatto vedere, perché io non ho le tasche. Ma non è che c'è dentro la sfera e tu l'hai persa? No, accendo il gommino, accendo un gommino, appoggiate, poi è come se fosse... L'ho scoperto oggi. Io la mia gli metto un goccino, metti un goccino di quel. Se tu gli metti un goccino di questo, resta lubrificata sempre, non gli fai mai un cazzo. Dopo vedi, dopo ti tocca attacarlo con le fascette. Non sai cosa gli mette dentro? Magari fa come quella ragazza lì in Russia. Mi raccomando, non andare in Russia con quella roba lì, mi arrestano. Mi arrestano. Cos'è che hanno combinato l'ultima, hanno bevuto i gel disinfettanti delle mani? Normale. E' una festa, 20 ragazzi e 17 morti. Morti? Ma in Italia? No, i russi. Praticamente avevano 4-5 bottiglie di volta, finite quelle c'erano i gel disinfettanti, si sono bevuti quelli perché c'è trovato l'alcol. Se li mettevi una bottiglia di parafrussi per le tenevano anche quelle. Ma si, ma si fumavano le vernici, l'ultima volta le facevamo vedere le caratteristiche. Piccolina ma cattiva, posso rimetterla lì, Vito? Sì, sì. Grazie. Grazie. Grazie.